Che le malattie mentali siano delle vere e proprie malattie che vanno diagnosticate e curate è ormai una nozione ampiamente diffusa. La stessa cosa non avviene per la tossicodipendenza. Vi sono molti dubbi ancora nella popolazione generale che si tratti di una vera e propria malattia e soprattutto ci sono idee discordanti sul trattamento della tossicodipendenza. Vorrei oggi soffermarmi su una questione che è ancora all'ordine del giorno nella ricerca. Qual è l'outcome della tossicodipendenza? Perché se la tossicodipendenza è una malattia deve avere tutte le altre cose delle malattie e fondamentalmente deve avere anche degli esiti. Che cosa succede a un tossicodipendente durante la sua storia naturale e anche dopo il trattamento quando possibile? All'inizio della storia tossicomanica sicuramente i sistemi del piacere funzionano di più. È per questo che la trappola può agevolmente arrivare a colpire queste persone. Ma è una trappola, è una trappola perché nel tempo questa capacità di provare piacere in realtà diminuisce. Sono due le cose che dobbiamo considerare nella tossicodipendenza. Uno, che i tossicomani hanno una psicopatologia come tutti gli altri malatti mentali, che va riconosciuta per la diagnosi di tossicodipendenza. Due, che i sistemi del piacere pian piano cominciano a funzionare meno e quindi i tossicomani si ritrovano fondamentalmente nell'incapacità di provare piacere attraverso le normali vie che lo stimolano, quelle sensoriali. E soltanto le sostanze diventano utili a continuare a provare piacere, ma alla fine del gioco non si riesce più nemmeno a provare piacere con le sostanze. Di conseguenza la riabilitazione diventa una riabilitazione quasi dei sistemi del piacere e la terapia probabilmente dovrà vertere nel futuro soprattutto su questo aspetto. È vero che il sintomo acuto della tossicodipendenza è la separazione dalle attività sociali, ma probabilmente quelle fanno parte della parte acuta della malattia e non degli esiti. Se noi vogliamo prevenire gli esiti della malattia dobbiamo cercare di sviluppare in ogni modo la residua capacità di provare piacere di questi pazienti. Una sfida affascinante per medici, ma anche per gli psicologi e gli assistenti sociali.